Abbiamo fatto una grande gara contro un'ottima squadra e penso che abbiamo meritato la vittoria. Adesso abbiamo una classifica ottima, ma è giusto goderci una serata così con un pubblico meraviglioso. Penso che si sia vista un'ottima partita da entrambe le squadre e adesso dovremo essere bravi a rimanere, ma io penso che lo saremo a rimanere umili e concentrati perché avremo tantissime partite che ci creeranno tantissime insidie. L'anti-Juve, la Lazio? L'anti-Juve, ma penso che in questo momento... Sendo la Juve la squadra che vince da otto anni per quello chiaramente. Io penso che ci siano la Juve, la Lazio e l'Inter che stanno avendo dei ritmi forse nati perché penso che tutte e tre le squadre stanno tenendo ritmi elevatissimi. Penso che in altri campionati con il punteggio che abbiamo in questo momento saremo primi con largo vantaggio sulla seconda e la terza. Però sappiamo che abbiamo due grandissime squadre contro di noi, faremo di tutto per lottare fino alla fine sapendo che sarà molto molto difficile.